Castello dei Lascaris, detto anche la Turusela, è un castello mediovale, fu costruito tra il 1275 ed il 1280 dal conte Pietro Balbo di Tenda, con funzione di controllo della strada del colle di Tenda e di riscossione di imposte. Fu anche rifugio di masnadieri che infestarono a lungo la valle, venne distrutto dagli spagnoli nel 1557 durante un assedio di Cuneo. Il castello è composto da due torri, questa che vedete è quadrata e l'altra al centro della piccola piazzetta è esagonale. Il castello è stato costruito con le pietre del posto. Nella postazione del castello si può ammirare un magnifico paesaggio. Ai piedi del castello vediamo il paese di Vernante, che è a un'altezza di un'altezza di un'altezza di un paese di un'altezza di circa 730 métri. Grazie a tutti. Di qua un'altra veduta del castello dei Lascaris di Vernante.